Sapete, ho già fatto alcuni video riguardanti il gender pay gap. Ecco, facendoli ho scoperto incredibilmente che molte persone, in particolar modo ovviamente uomini, non credono a questa dinamica economica. Ecco, cercando di smentire questa convinzione, basta anche forse un solo dato, e cioè andare a vedere la partecipazione degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro durante diversi periodi storici, in particolar modo negli Stati Uniti. Come potete vedere da questo grafico, per gli uomini la partecipazione nel mondo del lavoro è stata piuttosto costante, mentre le donne hanno avuto una storia molto più complessa. Ecco, se non accettate neanche questo dato, e se non avete neanche il minimo dubbio che ci sia un qualche tipo di dinamica sociale che imponga alla donna un ruolo all'interno di questa società, ecco, questo video non è per voi, non riuscirò neanche a convincervi nei prossimi minuti. Se invece riuscite a liberarvi dei vostri preconcetti per questi minuti di questo video, vi chiedo solo questo piccolo sforzo, e cercare di ascoltarmi in quello che dico. Ecco, magari riuscirete a scoprire qualcosa di interessante in tema economico su questi argomenti, e cercherò di spiegarvi perché il premio Nobel del 2023 è stato dato a Claudia Golding per i suoi studi sul gender pay gap. Buon ascolto. Innanzitutto, che cos'è un premio Nobel? Non voglio parlare dell'argomento che il premio Nobel dell'economia non è un vero e proprio premio Nobel, ma lo dà la Banca della Svezia. Altro argomento. Voglio parlarvi, in realtà, della funzione del premio Nobel. Come per tutti gli altri premio Nobel e delle altre materie scientifiche, anche quello sull'economia premia una delle ricerche che viene considerate più importanti per lo sviluppo della materia. Ma che cos'è questo premio? È un premio assoluto? Ovviamente il Nobel non è un premio assoluto, è come una gara di gatti. Sicuramente un gatto siberiano con un manto particolare è da premiare, ma vuoi mettere con un classico gattone arancione? Sono tutti e due belli, come fai a decidere? Quindi non è che c'è un qualcosa di assoluto che decide quale ricerca scientifica è stata la più importante durante l'anno. Ecco quindi che da parte del comitato, tra i giudizi che poi decidono il premio Nobel, c'è anche un impatto sociale della ricerca. E quindi non è un caso se il premio Nobel per gli studi sul gender gap è stato dato in quest'anno. Attenzione, non è che sto dicendo che il premio Nobel è stato dato per un complotto del gender, ci mancherebbe. Però sicuramente sarebbe stato impossibile, molto difficile darlo anche 20 o 30 anni fa. Non solo perché c'era una mancanza di studi, questo perché la ricerca non viene reredatta su quegli ambiti, ma anche perché magari quella branca sarebbe stata vista come una branca minoritaria. L'impatto della cultura nella ricerca scientifica non è solo un tema in ambito economico, ma anche nelle scienze più dure, dalla fisica alla chimica. Chi ha seguito anche un minimo di corsi di epistemiologia sa di che cosa sto parlando. Ecco, oltretutto lo si può vedere anche per tutto l'arco dei premi Nobel all'economia che sono stati dati in questi anni. Se siete interessati ad approfondire tutti i premi Nobel all'economia nel tempo, potete vedere questo libro che lascio in descrizione. Fatta questa piccola precisazione, ne ho parlato anche in un video parecchio tempo fa. Sicuramente però il premio Nobel alla Golding di quest'anno è sicuramente meritato. E questo video è apposta per spiegarvi il perché. Il Nobel di quest'anno è ancora più particolare. Non solo perché, per i motivi appena esposti, ma anche perché si tratta più di un premio alla storia economica più che all'economia dura e pura. Infatti, prima degli studi della Golding, una ricerca approfondita e coerente sul tema del mercato del lavoro femminile era sostanzialmente manchevole. Gli storici economici nel secolo scorso avevano tesi piuttosto approssimative, generaliste e spesso errate su questi argomenti. La Golding, invece, spinse la ricerca avanti costruendo un archivio di dati mai visto prima e impensabile da ricostruire. E proprio con lo studio di questi dati raccolti da lei stessa, quindi come vedete la ricerca storica è stata prevalente nel suo campo di ricerca, riuscì a capire anche decennio dopo decennio quali vincoli influenzavano le donne nella scelta della partecipazione al mondo del lavoro. Senza i suoi studi probabilmente il campo del gender economics non esisterebbe e tutti gli altri ricercatori che si sono susseguiti dopo di lei non avrebbero potuto studiare questo fenomeno e probabilmente riflettere sulle possibili soluzioni al tema. Quindi capite l'importanza della ricerca scientifica della Golding sulla società intera, quindi per questo è assolutamente meritato come premio Nobel. Di nuovo non è un merito assoluto, però tra i tanti sicuramente lei è un'ottima scelta. La ricerca della Golding è ricca e approfondita e molto vasta, ma opinioni di molti ricercatori che è una shortlist dei paper più importanti sono sostanzialmente questi. Per chi anche volesse approfondire autonomamente, magari se sta scrivendo una tesi di laurea, eccoli qua. Bam, 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 bam. Una delle prime intuizioni della Golding, studiando i dati che ha accumulato, è che i divari salariali di genere non si assottigliano con il progresso economico. Tesi invece che si era consolidata nella ricerca tradizionale, che come abbiamo detto era piuttosto manchevole su questi aspetti. Se prima si pensava che il divario di genere si sarebbe ridotto in base alla crescita economica, ecco che invece la Golding afferma che i divari di genere variano in base al periodo storico. E non c'è una riduzione costante nel tempo man mano che c'è una crescita economica, ma ci sono periodi in cui i divari sono più alti e periodi in cui i divari sono più bassi. Ad esempio la Golding scoprì che dal 1820 al 1850 i divari salariali erano diminuiti, per poi in realtà dal 1890 al 1930 aumentare, come potete vedere. Per poi rimanere stabilmente discriminatori fino a tutto il decennio del 1970, e poi dagli anni 80 in poi invece i divari sono diminuiti. Ecco, il contributo della Golding è stato quello di individuare per ogni periodo storico le diverse concause che possono essere differenti per ogni periodo, che hanno aumentato o fatto diminuire i divari di genere nel mondo del lavoro, in questo caso le ricerche ovviamente si sono concentrate negli Stati Uniti. Ad esempio, la discriminazione e la stagnazione che avviene tra gli anni 90 dell'Ottocento e gli anni 50 del Novecento, quindi più o meno questo periodo centrale, secondo la Golding deriva da un mercato del lavoro che ha iniziato ad utilizzare gli scatti di mansione come un premio per le carriere più continuative, che, guarda caso, erano proprio quelle degli uomini. Quindi questa evoluzione del mercato del lavoro ha penalizzato le donne. La Golding, in altri suoi studi, riesce anche a dimostrare che le carriere lavorative per le donne cambiano in generazione in generazione, basandosi su una serie di condizioni culturali e sociali che influenzano la loro scelta di entrare o meno nel mondo del lavoro e in che modo entrare. Bastano anche delle condizioni che pensiamo banali, ma che in realtà sono molto importanti per influenzare queste dinamiche economiche. Ad esempio la volontà delle donne di non trovare più un semplice lavoro che magari arrotonda lo stipendio dell'uomo, ma l'intenzione di voler costruire una carriera lavorativa, cosa che è spesso avvenuta soprattutto dopo gli anni 80. Ecco, questo aspetto incide moltissimo sui risultati del Gender Cup, perché una delle principali componenti di questo aspetto è proprio il differenziale di carriere tra uomini e donne che avviene nel corso del tempo. Tutto ciò spiega anche come mai i cambiamenti di discriminazione sono stati così lenti a ridursi in alcuni tratti di storia, come abbiamo visto. Basta dividere il mercato del lavoro femminile, e questa è stata una grande intuizione della Golding, in gruppi, detti coorti in termini statistici, in base all'età di nascita, come questa tabella esplicativa. Quello che ci dice la Golding è che le decisioni di partecipare o meno al mercato del lavoro da parte delle donne dipende dalle aspettative, sia nei confronti del mercato del lavoro, ma anche nei confronti della società. E queste aspettative si sedimentano per ogni coorte. Quindi ogni coorte assume delle aspettative e si comporta in un determinato modo. Al massimo, quello che ci dice la Golding, è che le aspettative si aggiornano coorte dopo coorte, ma non vanno a influenzare le coorti precedenti. Per cui la transizione verso una maggior partecipazione delle donne, come potete capire, è rallentata. Perché se io prendo la statistica d'insieme del mercato del lavoro prendendo tutte le coorti, in realtà solo un piccolo segmento è avanti con la partecipazione del mondo del lavoro, mentre tutte le altre sono indietro in quanto si sono formate in base ad alcune aspettative che vigevano proprio quando loro sono entrate nel mondo del lavoro. È un po' meccanico, ma spero di essermi spiegato. Questo fenomeno, quindi, in cui le coorti non si comunicano ma si aggiornano man mano, comporta una riduzione della discriminazione di genere molto più lenta man mano che si va avanti nella storia. L'economista spiega anche che nei paesi sviluppati la differenza di educazione o scelta del lavoro ormai non è più un fattore predominante del gender pay-up. Quindi siamo in questo periodo qui. Anzi, ad esempio, negli Stati Uniti le donne in media sono anche più formate rispetto agli uomini. E, nonostante questo, le donne hanno delle carriere, quindi un gender pay-up, riguardo il mondo del lavoro. Uno dei punti focali della questione è che la donna non è nient'altro che in competizione tra il mercato del lavoro e il mercato della famiglia, della cura e dell'accudimento dei figli. Quindi le donne devono prendere delle decisioni tra servire i bisogni della famiglia oppure servire i bisogni della carriera e dell'adeguamento professionale. Dimostra, infatti, in diversi paper, tra cui uno di quelli che vi ho consigliato, che i divari salariali più grandi nascono nel momento della nascita dei figli e della costruzione della famiglia. Da quel momento in poi, infatti, le donne decidono molto spesso di abbandonare il lavoro oppure di renderlo part-time o di prendere delle pause, cosa che gli uomini non fanno. Questo determina carriere differenti che poi hanno anche delle retribuzioni differenti. Ma questo non perché le donne siano meno schillate o perché non abbiano voglia di andare al lavoro. Perché c'è una società che, se vogliamo, le forze gli dà delle aspettative di prendere determinate decisioni, cioè rinunciare al lavoro per assumere la carriera di accuditrice nel mondo familiare. Questo elemento lo si può vedere anche nella grande sproporzione tra le ore in famiglia tra uomini e donne, con ovviamente grande prevalenza dell'aspetto femminile. Queste conclusioni le ha potute descrivere anche in un suo paper dove analizza un gruppo di lavoratori con stessa educazione e stesso mercato del lavoro, cioè quello finanziario. Quindi, come vedete, le basi di partenza per tutti i lavoratori sono più o meno le stesse. In quel paper si vede che all'inizio il differenziale salariale è molto basso, però poi quando si raggiunge i 30 anni, ecco che lì si ha il grande incremento di divario salariale che poi pian piano si allarga sempre di più, proprio al momento in cui le donne accudiscono i figli, fanno una famiglia e quindi rinunciano a una parte del mercato del lavoro. Ma non è finita qui perché, come vi accennavo, le determinanti di questo evento economico del gender gap sono molteplici e ne ha descritte parecchie, come ad esempio in un paper la Goldin parla della pillola contraccettiva e di come questa abbia influito fortemente sulla tematica del gender gap. Infatti, grazie a questa innovazione tecnologica c'è stato un maggior controllo della propria fertilità e questo ha permesso alle donne di programmare meglio la loro carriera lavorativa e quindi aumentando anche gli incentivi alla formazione e all'educazione. Perché non ha senso prendersi un MBA se poi dopo due anni devo fare figli e quindi uscire dal mercato del lavoro. Invece, grazie anche a questa innovazione tecnologica, le donne possono permettersi di programmare meglio la propria carriera lavorativa e quindi investire anche in delle carriere più continuative e prolungate che quindi diminuiscono il gender gap. Uno degli aspetti importanti che ha dato ulteriore lustro al premio Nobel della Goldin sono stati i suoi metodi di ricerca che sono stati molto accurati. Ve ne vorrei raccontare giusto uno proprio riguardo la pillola contraccettiva. Infatti, le conclusioni riguardo queste ricerche sono state svolte in base a diversi studi che sono stati messi in atto da parte della ricercatrice su diversi stati americani che permettevano o meno durante gli anni Sessanta l'utilizzo della pillola. Infatti, come dovete sapere, in alcuni stati a quel tempo era illegale utilizzare la pillola mentre in altri era legale. Ecco, oltre ad utilizzare questo metodo di ricerca di comparazione tra diversi stati è andata anche oltre. Infatti ha ulteriormente diviso il campo di studi in corti e in età e quindi in questo modo ha notato tra i diversi campi il diverso utilizzo della pillola e come questo diverso utilizzo della pillola effettivamente risultasse anche in diverse prosecuzioni di carriera lavorativa. Ecco che, grazie a questi studi di A-B testing, se vogliamo, ha scoperto come l'utilizzo della pillola abbia influenzato le decisioni di partecipazione nel mondo del lavoro delle donne. Insomma, la Golden ha avuto un enorme impatto nel descrivere tutte queste dinamiche da un punto di vista storico, utilizzando ricerche econometriche molto solide e, se vogliamo, il grande contributo che ha dato la ricerca scientifica in tema economico e che gli ha permesso di ricevere quest'anno il premio Nobel. Come vi ho accennato, quindi i suoi studi hanno permesso la nascita di un ambito di studi del tutto nuovo e che ha reso possibile ai ricercatori successivi quello di studiare questi fenomeni e interrogarsi su come risolvere il problema. Quindi la Golden ha dato un po' il campo di studi dove poi si sono aggiunti gli altri ricercatori dove si sono interrogati quali politiche applicative potessero essere messe in atto per poter cercare di ridurre queste problematiche. Ecco, per tutti questi motivi, ovviamente è stato un video molto riassuntivo ma vi lascio in descrizione tutte le fonti, Claudia Goldin ha vinto il premio Nobel nel 2023 in ambito di gender pay gap o comunque di discriminazione di genere delle donne nel mondo del lavoro. Quindi la ricerca scientifica fino ad adesso non aveva mai premiato questo tipo di ricerche scientifiche e ad oggi anche i premi Nobel hanno riconosciuto questa branca economica molto importante. Quindi se non credete al gender pay gap, beh, continuate a seguire i vostri guru maschilisti però la ricerca scientifica dice tutt'altro. Ci sono palate e palate di studi che lo testimoniano. E ho cercato di raccontarvi qualcosina con le ricerche della Golden. Se siete interessati vi rimando anche a un altro mio video sul gender pay gap molto interessante di qualche anno fa ma non è imbecchiato di una virgola e ci vediamo al prossimo video. Grazie dell'attenzione. Ciao ciao!